amici di italiano per tutti è arrivato il momento di un'altra ricetta di italiano per tutti le orecchiette con le cime di rapa allora quando sento questa ricetta mi viene in mente la puglia è un piatto tipico pugliese le cime di rapa sono molto note sono molto famose soprattutto in italia soprattutto in puglia ma anche al mondo in generale se andate in altri paesi le trovate richiamate o comunque se andate in italia nei posti giusti come in puglia o non solo ci sono veramente la ricetta se fatta bene veramente squisita non sono un cuoco non sono uno chef sono abbastanza in grado di distinguere lo zucchero dal sale però come sapete alle volte faccio queste lezioni per insegnarvi un po di italiano ea parlare ascoltarmi però sono comunque interessanti perché vi aiutano se volete provarle sono delle ricette vere quindi potete cercare gli ingredienti potete provarle potete sperimentare in cucina e andiamo subito con la nostra ricetta un modo molto gradevole per imparare la lingua e la cultura italiana è conoscere le ricette e i piatti tradizionali dell'italia in questo video impareremo il primo piatto più conosciuto della regione puglia le orecchiette con le cime di rapa si tratta di una pasta dal formato caratteristico le orecchiette quindi sono una pasta rotonda piatta schiacciata un po arrotolata condita con le cime di rapa un ortaggio tipico delle regioni centro meridionali dell'italia dall'aspetto e dal sapore molto simile a quello dei broccoli ecco queste sono è la foto della 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 cima di rapa che questa questa ortaggio verde molto gustoso quando soprattutto se cucinato nei primi piatti gli ingredienti quindi se se volete segnatevi questi ingredienti andate al negozio supermercato acquistate gli ingredienti e poi insieme facciamo il preparato 400 grammi di orecchiette 250 grammi di cime di rapa se non le trovate potete sostituirle con i broccoli private dei gambi e delle foglie più dure le cime di rapa quindi la realtà la frase continua da primo ecco quali possono essere gli errori in italiano gli errori di di lettura quindi 250 grammi di cime di cime di rapa se non le trovate potete sostituirle con i broccoli le cime di rapa devono essere private dei gambi e delle foglie più dure questo è la giusta cadenza 68 filetti di acciughe sott'olio 12 spicchi di aglio 50 grammi di pecorino formaggio grattugiato se non lo trovate potete sostituirlo con il parmigiano 50 grammi di pangrattato il pangrattato e pane grattugiato solitamente un po secco perché altrimenti non si grattugia olio di oliva e sale quindi fate spesa acquistate questi prodotti e poi possiamo andare con la ricetta delle orecchiette con le cime di rapa la preparazione della ricetta riempite di acqua una pentola e portate a ebollizione quindi fate bollire l'acqua nella pentola lavate le cime di rapa perché le avete appena acquistate quindi comunque sono da lavare e le tagliate in piccoli pezzi quando l'acqua della pentola bolle gettate una manciata di sale come si fa sempre per la pasta e versate le cime di rapa quindi le avete tagliuzzate le avete lavate l'acqua bolle con una manciata di sale buttate nella pentola le le verdure la verdura lasciate bollire la verdura per circa cinque minuti poi nella stessa pentola versate anche le orecchiette mentre le orecchiette cuociono prendete una padella abbastanza larga dovrà poi contenere tutte le orecchiette quindi la pentola ovviamente la padella che state prendendo dovrà contenere le orecchiette perché poi verranno mischiate con con le cime di rapa versatevi un filo d'olio gli spicchi d'aglio e le acciughe quindi abbastanza grande la padella e poi verrà verranno messe insieme fate soffriggere fino a quando le acciughe non si saranno sfaldate a questo punto spegnete il fuoco e togliete gli spicchi d'aglio l'aglio ha lasciato il gusto non è non c'è bisogno perché è troppo intenso poi il gusto dell'aglio nella pasta ovviamente quindi ha lasciato il gusto e si può togliere utilizzate un'altra padella anche più piccola per fare tostare il pane grattato basteranno un paio di minuti appena le orecchiette sono cotte scolatele insieme alle raddure e versate il tutto nella padella con olio e le acciughe e fate scaldare per un minuto sul fuoco mescolando bene tutti gli ingredienti infine togliete la padella dal fuoco versate sulla pasta il pan grattato e il formaggio grattugiato mescolate bene e servite buon appetito allora posso ovviamente potevo fare una soffermarmi su delle parti intermedie però avete visto questo del processo rileggetero riascoltatemi risseguitemi non sono un cuoco ovviamente l'importante che impariate in qualche modo se lo dico soprattutto per quelli che sono nuovi che seguono il canale da poco che impariate a ad ascoltarmi quindi hai impariate poco per volta a percepire sia con l'orecchio che con la testa quindi a capire parola dopo parola di quello che vi ho letto questa era una ricetta questo è un esempio se facciamo tante cose però se vi capita di mangiare le orecchiette con le cime di rapa provatele perché sono eccezionali a me piacciono le lasagne con gli spinaci ma le orecchiette con le cime di rapa comunque sono sono un ottimo su un ottimo primo mi raccomando buon appetito se vi capita di andare in qualche ristorante italiano soprattutto del centro sud nel menù sicuramente le troverete in puglia sono sono lo standard la puglia lo sapete una regione molto bella l'abbiamo fatta da poco ci sono molte coste ci sono molte ci sono molte spiagge è una regione da visitare però insieme alle regioni più belle non solo nel sud ci sono degli ottimi piatti da assaggiare e tutti gli amici stranieri che mi dicono sono stati in italia mi dicono il cibo è veramente straordinario questa è una ricetta sul cibo questo ma questa è una lezione dicevo sul cibo voglio dire questa la lezione su una ricetta ne faremo ancora tante altre spero che vi sia piaciuta vi chiedo come sempre un like un seguimi sul canale avremo ancora tante cose da dire siamo su tutti i social siamo sul blog itapertutti.blogspot.com come dico sempre seguiteci fate domande se non avete capito qualcosa in questa lezione seguite le 136 lezioni che ci sono prima di queste perché abbiamo fatto tanta grammatica tanta arte dialoghi personaggi regioni ricette alcune nozioni generiche sulla sulla cultura italiana eccetera 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 ci vediamo nella prossima lezione se volete sempre seguirci su italiano per tutti ciao